Quanto? Con 812.000 C'è un tipo Vabbè ti lascio la cassa sopra Vado direttamente a Jonesy Va bene vado alla cassa sopra Vedi è la cassa speciale L'avevo lasciata Non è voluto P90 oro Nooo Fa schifo lui Ma c'è un tipo lì nell'acqua Morto C'è un altro qua nell'acqua Morto Non mi munizioni no No non sono insieme Ma ti ne ho comprati Eh ti serve un cannone a rotaia Ok no ho comprato uno di più Meno male Ma ma che fa questo Sneaky sneaky lui 170 Ammazzato Uno di gli sneaky sneaky dove è andato E' qua sotto Ma infatti Ma cosa vogliono questi Eh di cosa Che cosa ti serve Ok Io c'ho i scudini Però sono caduto di sotto E non ho i materiali per risalire Eh c'aveva il pompa lui Però è one shot Qua nell'acqua Eh si Nell'acqua sotto di te Lo vedi Ho detto C'ho tipo 20 di vita Si si Vai vai Tanto io ho gli scudini Ho tutto Vai vai Sì P90 se vuoi Va bene vai vai Non hai preso il pompa Però vabbè E quante casse ci sono Sei migliorato sto posto Beh sei migliorato Nuovo Nuovo land Bello Ok Ma là non puoi Sì specialmente su quello lì Con 20 di vita Poraccio Ah easy Si vola Vabbè riprende tutto Vabbè Non puoi tenerlo se vuoi Al pompa Puoi prendertelo lì Da terra Dal tizio Tanto l'ho appena trovato Vabbè Vabbè va a stare lì E tieni premuto No era qui Era qui da me No no Lo so prendendo ora No ce l'ho E qua un pompa Un po' per te Si Te Lascia già il P90 Tuo rotaio lo usi tantissimo Eh no Non ne ho Ma se non prendi questo Che c'è pure un colpo in canna Eh son pochi Dobbiamo trovarli Troppo io mo Sono sponato Non ce ne ho Lo vediamo Li troveremo Qua c'è una R normale Qua c'è uno scar Ah si Appena ho uscito dalla cassa Scar con scudone Che ti puoi tirare tranquillamente Vieni vieni Ah vabbè Intanto arrivi Non è un problema E' tutto qua E' migliorato Sto posto Un bel po' pure Eh 13 Mi sto dando un po' la pesca Non cerca di finire Quei pesci Porca miseria Siamo già top 16 Perché l'abbiamo finita Però Vabbè Sariamo Che da un tanto Non c'è A parte mi sa Che quelle Queste due casse Non c'è nient'altro Che hai trovato? Un altro E a sto punto Rip Canone a rotaia Eh si Esatto Vabbè Io prendo qualcosa Con cui ho voluto tu prima E me ne vado sopra Sì Tanto Meglio che stare Nella conca E' da meglio stare Nella conca C'è gente sopra Ah è morto C'è il Venoms Mi sa che me lo prendo tantissimo Il Venoms C'è uno vestito da fantasma C'è qualcosa Con la pietra fantasma Probabilmente non lo vedo Però c'è Non mi ha preso la scarsa In maniera Snigli snigli Se ne sta andando Eh Ah ah Lo vado a prendere L'ha restato Sì L'ha restato È entrato Dentro Castello Corallo No Non conviene Inseguirli Cosa Ah ok L'ho visto Uno è bianco Sta scappando pure l'alto Quello bianco Eh no È sempre più bianco No io lo inseguo Non mi frega niente E il fucile Sta cecchino Quello strano Lo strambo Uno l'ho ucciso Ah sì sì Ma non fa niente Tranquillo 59 Morto Abbastanza Quanti scusi Dici hanno Uno Vabbè Tieni dentro Lo tu Ah ci sono in cura bomba Visi Usiamo questi Una posa Così questo Lo possiamo portare Ce l'ho La cosa che mi manca È un po' di colpi AR Ne ho 70 Per il resto Sono a posto Arrivo Ah eccoli Ne ho 104 Adesso C'è un altro scildone qua Sì sono qui Ah andrà sì È pieno di casse Sto posto Ce ne sono anche altre Altro scildone qua sopra Altro scildone qua Eh ma io a sto punto Deveci lasciarli a terra Quei 20 Per i 10 punti Di vita che ci mancano Io me li farei a sto punto Sì Ma ci sono anche Le casse sommerse Che non si possono prendere Eh no Qua deve succedere qualcosa Vedi qui c'è una cassa Non si può prendere Eh l'hanno sistemato Mila al me Faceva schifo Eh sì E siamo pure Veniti Quattro Togliendo noi tre Benissimo Sì Si Benissimo Talmente bene Che quelli L'hanno sfruttato Sul tuo stesso box È probabile Sai la safe è qua Mazza Sopra una montagnetta Ci sono due team Praticamente Uno più lontano E l'altro più vicino Noi non ci possiamo esporre Perché abbiamo quelli sopra Che poi ci rilassano male Non ci possiamo esporre Non ho buttato uno a terra Di questi altri qua C'è uno sempre qua dentro Mezzo morto Super bianco Super morto Ti metto la jump Tre team Un team rimasto Siamo due contro uno Due contro uno Ah no Lo so Sì Qua Eh Io sì No lui no Però lancia razzi BOOM 8 kill Ancora 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 Ancora